Nineteenth lesson. When is the next bus to Hartford? Quando è il prossimo autobus per Hartford? Excuse me, sir. When is the next bus to Hartford? Mi scusi, signore. Quando è il prossimo autobus per Hartford? The next bus is in twenty minutes. Il prossimo autobus è tra venti minuti. When is the next one after that? E quando parte quello dopo? At eight o'clock. It's the last one tonight. Alle otto. È l'ultimo stasera. When does the eight o'clock bus arrive in Hartford? Quando arriva ad Hartford all'autobus delle otto. At midnight. Like it says on the schedule pole. A mezzanotte, amico. Come sta scritto sull'orario. When it gets into Hartford, are there usually taxis waiting at the bus depot? Quando arriva a Hartford, ci sono di solito dei taxi alla stazione degli autobus. You got me. I have no idea. I have never been to Hartford. Mi prende proprio in castagna. Non ne ho idea. Non sono mai stato a Hartford. A mezzanotte. Non ne ho idea. 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 Grazie.